I pozzi antichi e quelli previsti a breve nel Mediterraneo non dovrebbero spingersi a più di 4.000 metri sotto il fondale, ma in futuro c'è la possibilità che arrivino oltre i 5.000, laddove la storia geologica del mare Nostrum suggerisce l'esistenza di vaste riserve di idrocarbuni. Tra il dire e il fare però c'è davvero di mezzo il mare, perché gli stessi esperti ammettono che i costi e i rischi ambientali e tecnici, non solo dello struttamento ma anche della ricerca, si pensi ad esempio alla potenza degli Ergan, crescono in modo esponenziale alla profondità.